Il concetto della città da 15 minuti è molto semplice. Dovrei essere in grado di raggiungere tutti i negozi, tutti i servizi di cui ho bisogno nell'arco di 15 minuti a piedi o in bicicletta. Devo dire che a Cagliari dove abito sono in una città da 15 minuti perché effettivamente posso andare a piedi all'ufficio postale, al tabacchino e comprare i francobolli che non hanno, al supermercato, il calzolaio anche a 15 minuti, il mercato, pesci vendolo, parrucchiere, il medico. Insomma sono molto fortunata ma semplicemente perché abito in una parte della città piena di servizi con un'altissima densità di popolazione. Mia madre abita nella parte vecchia della città in un quartiere storico che quando io ero bambina era un quartiere malfamato e poi negli anni 90 gli appartamenti sono stati acquistati da professionisti. Architetti l'hanno rimesso a posto e adesso il quartiere dove abita mia mamma lei è una delle pochissime persone che ci abita da più di 30 anni, lei ci abita da 50 e 60 e più anni lì. Per il resto sono negozi che vendono souvenir e bed and breakfast. Quindi paradossalmente io che abito in una parte nuova della città ho a mia disposizione tutti i servizi di cui ho bisogno, mia madre invece no perché nel suo quartiere non ci sono botteghe, non c'è una banca, non c'è nemmeno uno sportello, non c'è nemmeno un ufficio postale. Lei deve fare ben più di 15 minuti per raggiungere tutti questi servizi. Il problema della città da 15 minuti è tornato in auge o comunque è stato presentato negli ultimi decenni e parte dal presupposto che se non dobbiamo fare i chilometri per arrivare ai servizi di cui abbiamo bisogno stanno tutti meglio. Quindi un problema non di mobilità, non di avere trasporti migliori, bensì un problema di accesso, avere accesso a quello che ci serve e dove abitiamo. Ci sono molte parti della regione dove abito, della Sardegna, che non hanno né accesso né mobilità, che non ci sono né mezzi di trasporto né servizi di cui la gente ha bisogno e ancora penso al quartiere dove abita mia mamma dove non passano nemmeno mesi di trasporto al suo interno. Quindi chi vuole accedere ai servizi deve farsela a piedi, in bicicletta non è molto consigliato perché è un quartiere che si chiama Castello come se diceva una montagna. Sforziamoci, sforziamoci di portare i servizi là dove abita la gente e non di fare il contrario.